oggi sono incazzato niente intro in poche parole cosa è successo ieri anche ho fatto un po su youtube in cui dicevo bomba stasera registro la reaction a riot di izzi bene io incomincio sistemo tutta la postazione qua faccio la intro del video sento la prima canzone se non fosse che appena parte la prima canzone io mi ricordo che ieri sera queste signorine qua hanno deciso di rompersi o meglio uno di questi due cazzo di auricolari affoldato basta non funziona più allora io ho ascoltato la prima canzone però si sentiva da un solo audio onestamente non riuscivo neanche capire se la canzone mi piacesse o meno e ho detto fanculo io registro il video su ski mask quindi eccoci qua mie slime oggi parliamo di ski mask uno dei rapper secondo me più innovativi e originali degli ultimi anni molti di voi sicuramente lo conosceranno o l'hanno conosciuto grazie a ex 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 tentazione infatti due erano migliori amici e anche colleghi stokely clavon goldborn è nato il 18 aprile 1996 in florida a origini jamaicane e tra gli artisti che di più l'hanno influenzato nel suo percorso musicale troviamo missy elliot wu ten clan leeway e basta rimes soprattutto basta rimes perché poi è uno degli artisti che anche nel flow e nel modo di rappare l'ha influenzato più di tutti è cresciuto ascoltandosi anche molta musica giamaicana visto che i suoi genitori l'ascoltavano spesso per casa e l'ha spinta l'approccio al mondo musicale e l'ha data proprio suo padre che addirittura era un rapper e veniva chiamato sin city nel 2013 viene mandato in un carcere minorile dopo essere stato trovato con dell'erba addosso indovinate chi incontra qui dentro ex 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 tentazione colui che come dicevo prima diventerà con il tempo il suo migliore amico e collega uscito dal carcere forma un gruppo rap veri re con ex 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 più avanti vedremo che questo nome prenderà anche il nome del suo brand e droppa la sua prima canzone su sun cloud intitolata catch me i due poi negli anni a venire diventeranno due figure emblematiche per sun cloud e insieme ad altri diventeranno gli artisti che più hanno spinto e hanno fatto esplodere questa piattaforma insieme a questo due rep ski contribuì anche alla creazione di un altro collettivo members only che poi con il tempo darà alla luce ben quattro mixtape l'ultimo dei quali uscito proprio nel 2019 dopo la morte di ex 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 più precisamente è stato pubblicato il 23 gennaio giorno nel quale avrebbe dovuto compiere gli anni dal 2014 al 2016 droppa una serie di singoli su sun cloud tra questi catch me outside take a step back where's the blow collaborando con una serie di artisti del calibro di lil pump uno de acta vis lo stesso ex e riuscendo a mettersi in mostra creando una serie di rapporti con gran parte degli artisti della florida ma non solo proprio catch me outside è rappata su un beat di missy elliot che come dicevo prima è uno dei suoi idoli più avanti addirittura mostrerà segni di apprezzamento dopo aver ascoltato la canzone questo pezzo è sicuramente indimenticabile per ski in quanto oltre a essere una delle sue più grandi è stato il suo primo disco d'oro nel 2016 rilascio il suo primo mixtape brown in designer un mixtape formato da otto tracce che più avanti con una piccola modifica diventeranno nuove e tra queste troviamo take a step back con xxx che diventerà disco d'oro e where's the blow con lil pump oltre a questi nomi troviamo anche denzel curry e craig exam un membro del collettivo members only tutti artisti che ai tempi erano tra i più grandi esponenti della scena soundcloud il progetto fu proprio droppato su soundcloud e dire un sacco di attenzione a ski e ad oggi vanta più di 65 mila mi piace che corrisponde alle persone che si sono salvate l'album quindi sono praticamente dei download sin da qui lo stile di ski mask è ben chiaro flow schizofrenico metriche complesse e beat per lo più con bassi discorsi il risultato qual è otto tracce che appena le ascolti prendono fuoco nel 2017 rilascia il suo secondo mixtape intitolato you will regret questa volta però lo droppa anche sui servizi di streaming composto da dieci tracce un anno dopo verrà fatta una reloaded edition che aggiungerà tre canzoni a queste dieci e tre fit spiccano sicuramente i nomi di xxx tentation e made in tokyo il singolo estratto per pubblicizzare l'uscita dell'album e baby white che ai tempi con catch me outside erano le hit del rapper con più streaming se devo essere sincero questo è il mio album preferito di ski l'ho avuto in loop per davvero un casino di tempo ea differenza del primo mixtape ci sono tracce un po più introspettive come gone che poi è un interlude con vibes totalmente diverse dalle solite canzoni di ski sempre nel 2018 oltre a questa reloaded edition esce un altro mixtape beware the book of valley questo di base sarebbe dovuto essere il primo album ufficiale del rapper però ai tempi ci furono non pochi problemi inizialmente era stato pensato come un album curato da un solo produttore il suo preferito timbaland e si vocifera chi avesse come feat basta rhymes famous decks rich the kid liliotti e altri tuttavia numerosi ritardi per lo più imposti dall'etichetta costrinsero ski a dropparlo di nascosto dieci giorni prima che uscisse ufficialmente e dopo un'ora e mezza la stessa etichetta lo buttò giù da sun cloud ovvero dove era stato caricato poi uscì in via definitiva l'undici maggio il risultato finale sono dieci tracce due feat con rich the kid uno di sa baby danny towers e ronny j alla fine timbaland produsse solo una canzone run e invece del primo album ufficiale del rapper fu considerato un altro mixtape in attesa del suo album ufficiale il titolo dell'album deriva dal film de buco veli ambientato in un mondo post apocalittico dove eli il protagonista si dirige ad ovest in possesso dell'ultima copia della sacra bibbia rimasta al mondo superando gli ostacoli e pericoli che gli si pongono durante il cammino a giugno dello stesso anno ski mask subirà quella che probabilmente fino ad oggi la sua perdita più dolorosa ovvero la morte del suo migliore amico ex 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 tentation e sottolineo miglior amico perché i due prima di essere colleghi e essere soci avevano un rapporto di quasi fratellanza se n'era tantissimo ski sia dal punto di vista musicale ma vedremo più avanti ma sia proprio anche dal punto di vista proprio personale i numerosi concerti quasi tutti lo ricorda o con il classico minuto di silenzio o facendo cantare al pubblico sue canzoni pensate che in un suo concerto ad agosto mentre ski aveva chiesto al pubblico di fare un silenzio uno tra la folla urlò fanculo ex quel picchiadonna è un pezzo di merda ovviamente traduzione fatta molto a cazzo al che prova di immaginarmi la scena ski guarda il ragazzo con uno sguardo probabilmente demoniaco e urlò al pubblico rompetegli il culo vabbè inutile dire che dopo un po' intervene la security verso la fine dell'anno il 30 novembre arriva il tanto atteso primo album ufficiale intitolato come il suo primo nome stokely non so se si pronuncia così debuttò al sesto posto nella classifica billboard vendendo 51 mila copie formato da 13 tracce banti fit di lilliotti lil baby e austin lamb ci sarebbe dovuto essere anche ian tag che io in primis mi ricordo di aver letto nella tracklist quando ski la pubblicò fatto sta che sicuramente avranno avuto dei problemi e infatti ad oggi non c'è alcuna traccia di tagga nel suo album a mani basse il suo lavoro più completo e maturo penso che anche da un punto di vista numerico sia quello che gli ha dato più soddisfazioni riesce anche a variare molto di più nel sound e ad aprirsi di più nelle canzoni tra le hit quelle sicuramente da menzionare sono fosett failure e nuke town in collaborazione con juiz word quest'ultimo che dopo xxx molto probabilmente divenne il suo migliore amico comunque uno delle persone a cui ski era più legato i due infatti sin da quando si sono conosciuti hanno dimostrato un'ottima intesa musicalmente parlando e non solo ci sono un sacco di video su youtube sia interviste che proprio video in cui fanno freestyle e sono assurdi purtroppo però anche in questo caso ski non è affatto fortunato è l'otto dicembre 2019 gius world muore un'altra grave perdita che in un modo o nell'altro segnerà tantissimo ski infatti segue un periodo in cui musicalmente parlando è poco attivo ma non solo anche sui social e più avanti confesserà di voler diventare un po più vocal anche per onorare gius world xxx quasi come se si stesse mettendo il peso delle loro carriere sulle sue spalle per continuarle il digiuno viene interrotto nel 2020 quando esce burnout the hood un singolo di cui esce anche il video nel canale lyrical lemonade riprende la sua vecchia wave ed essenzialmente la canzone è una critica in chiave ironica al razzismo merito di questo è anche il video girato da col bennett che vi consiglio di non perdervi perché è una hit nel frattempo anche annunciato di star lavorando a un sacco di musica e si pensa che il suo album possa vedere la luce proprio quest'anno visto che però siamo a novembre e non ci sono stati aggiornamenti è anche probabile che l'uscita il suo album slitty per il 2021 io spero semplicemente che al più presto potremo sentire sua nuova musica voi cosa ne pensate di ski come l'avete conosciuto se tenai per il suo nuovo album fatemi sapere tutto questo qui sotto con un commento se il video vi è piaciuto vi invito a lasciare un mi piace se non siete iscritti al canale iscrivetevi condividete questo video con tutti specialmente con chi non conosce l'artista o non lo conosce bene noi ci vediamo con un prossimo video slatt